Buonasera a tutti, sono Silvia Sorelli, è il mio primo freelance camp e come potete vedere ho seguito molto alla lettera tanti dei video che mi sono vista per conoscervi perché mi sono buttata proprio nel vero senso della parola. Ho cercato anche di seguire il video per tenere il microfono, avevo visto prima che c'era la signora che aveva fatto il video, ora non la vedo più, spero di aver imparato abbastanza bene ma non lo so anche perché sono molto emozionata, sono molto emozionata perché non so se sono in grado di tenere alto il livello degli speech che ho visto da stamani mattina e anche perché mi sento una responsabilità di tenervi comunque ancora come dire vivi, l'attenzione viva da parte vostra. Ho un grande obiettivo, quello di farmi ricordare domani mattina da voi, nel momento in cui aprirete il vostro armadio, spero quantomeno di aver stimolato la vostra curiosità e spero che guardiate il vostro armadio, il vostro guardaroba con degli occhi diversi, facendovi delle domande diverse che fino ad oggi non avevate mai fatto. Sono counselor e sono consulente d'immagine e integro queste due professioni, quindi l'esterno, la parte più superficiale, la parte più profonda per confluire verso quella che è un'immagine coerente in armonia, immagine personale ma fondamentalmente professionale perché io vengo da un'esperienza più che ventennale in una grande azienda internazionale, General Electric, Nuova Opinione per chi è di Firenze sicuramente lo conosce, dove ho ricoperto tantissimi ruoli nell'ambito delle risorse umane, per cui questo mi aiuta molto nell'aiutare appunto nell'accompagnare i miei clienti verso uno sviluppo professionale qualunque esso sia. Vestiti o vestiti da supereroe? Faccio una domanda molto molto scontata, quanti di voi hanno sentito parlare di prima impressione. Già Fugel, uno psicologo nel suo libro Psicologia dell'abbigliamento all'inizio del Novecento, diceva quanto il nostro comportamento è condizionato nel momento in cui vediamo una persona. Una persona anche semplicemente la vediamo da lontano, dai suoi movimenti il nostro cervello attiva tutta una serie di meccanismi per cui ci fa pensare, ci fa attivare di conseguenza dei comportamenti. Ma ho un'altra domanda per voi. Dopo che avete sentito parlare di prima impressione e avete capito quanto è importante, perché come dicono gli psicologi è nei primi sette secondi che si forma questa prima impressione, perché è il momento in cui il nostro cervello è nel massimo dell'attenzione. Cos'è che avete fatto di diverso nella vostra immagine, nella scelta del vostro abbigliamento, dei vostri outfit? Non è una domanda alla quale mi dovete rispondere, ma è uno stimolo di riflessione per i prossimi giorni. Altra domanda scontata. Quanti di voi hanno sentito parlare di linguaggio non verbale. Ok, lo immaginavo che la maggior parte di voi ne avesse sentito parlare. Marco Aime, che è un antropologo che insegna all'università, nel suo primo libro, che si intitola proprio Il mio primo libro di antropologia, dice che il primo mezzo, il primo canale attraverso cui noi conosciamo il mondo e l'altro è proprio attraverso lo sguardo. Lui ovviamente lo applica in quello che è il suo lavoro di antropologo, di scoperte di nuove civiltà, di nuove popolazioni, di nuove abitudini e culture. Noi però lo possiamo applicare tranquillamente nella nostra quotidianità da freelance supereroi. Come freelance noi siamo continuamente soggetti a un colloquio di lavoro. Pensiamo a un dipendente che fa la selezione per entrare in un'azienda e magari il suo ruolo è quello di ricoprire una posizione dove si interfaccia soltanto con dei colleghi interni, quindi i colleghi che una volta conosciuti sono sempre gli stessi. Una volta superata la selezione il gioco è fatto. Per noi non è così. Ogni volta che conosciamo un nuovo cliente, ogni volta che conosciamo un nuovo potenziale cliente, per noi è come se fosse un nuovo colloquio di lavoro. E ancora prima di poter convincere questo cliente, grazie alle nostre competenze, grazie alle nostre capacità magari anche di negoziazione, ancora prima lo convinciamo con la nostra immagine, perché è la primissima cosa che lui vede di noi. La psicologia della moda parte dall'assunto che la moda è un fenomeno sociale. Parla del gruppo al quale apparteniamo e anche del gruppo al quale vorremmo appartenere. Addirittura i sociologi dicono che la moda, moda intesa non come tendenza, intesa proprio come mondo della moda, quindi acconciatura, abiti, accessori, proprio come oggetti. I sociologi dicono che sia un fenomeno psicosociale molto complesso, nel quale l'abito è un uniforme che ha senso soltanto nel momento in cui viene rapportata al gruppo. Quindi tutto quello che possediamo, tutti gli abiti, gli accessori, parlano sì del mio materiale, ma parlano anche della mia identità personale. Mi fanno anche, come dire, raggiungere quelli che possono essere i miei desideri. L'apparire più giovane, l'apparire più sensuale, l'apparire più potente. Quindi l'abito è, siamo influenzati dall'abito sia perché, diciamo, il suo significato simbolico, ma anche per l'esperienza soggettiva che ci trasmette nel momento in cui lo indossiamo. E questo lo dicono gli psicologi che hanno coniato la teoria dell'enclothed cognition. Sono degli psicologi americani che hanno diviso un gruppo di studenti in due sottogruppi. Ad un gruppo è stato lasciato i loro abiti, ad un altro gruppo è stato dato un camice. A metà di questi studenti è stato detto che quel camice apparteneva a dei medici, all'altra metà che apparteneva a dei pittori. Poi le sono state date da fare delle esercitazioni e quelli che hanno ottenuto maggiore risultato sono quelli che indossavano l'abito che pensavano fosse appartenuto ad un medico. Quindi è veramente un po' come succede ai supereroi che si cambiano di abito nel momento in cui entrano in azione. Vi lascio questo spunto di riflessione. Avete notato la differenza di abito, di colori di Giorgia Meloni dal passato, prima che arrivasse al Consiglio, al momento in cui lei si è insediata e diventata Presidente del Consiglio. Non è stato un caso, così come non deve essere un caso la scelta di abito che voi fate nel momento in cui andate quantomeno al primo incontro con un nuovo cliente. Questo incontro ovviamente non ha come scopo quello di fornirvi approfondimenti sulla materia, ha semplicemente lo scopo quello di stuzzicare la vostra curiosità, di attivare soprattutto la vostra consapevolezza. Ma com'è quindi che noi possiamo utilizzare questi abiti come fanno i supereroi per farci sentire appunto un supereroe? Possiamo farlo attraverso i colori, possiamo farlo attraverso i tessuti, possiamo farlo attraverso le linee che usiamo per i nostri accessori. Attraverso i colori, ad esempio il rosso, il rosso è un colore che dà energia, è un colore che fa pensare alla vitalità, alla fiducia in sé. Pensiamo però se questo colore rosso lo usa una persona che è già molto sicura di sé, già molto piena di sé. Forse il rischio è di risembrare anche un po' troppo. Lo stesso per il blu. Il blu ispira la fiducia, ispira il rigore, la serietà. Di nuovo, se questo blu viene utilizzato, viene indossato da una persona che è già di per sé molto rigida, molto inquadrata, rischia di apparire troppo austera e magari anche di passare un messaggio che non vuole quello di distanza rispetto al suo interlocutore. E lo stesso vale anche ad esempio per il giallo. Il giallo richiama la gioia, la vivacità, la convivialità. Se lo indossa una persona che ha già queste caratteristiche sue, intrinseche nel suo carattere, rischia di apparire probabilmente anche un po' futile. I colori possono essere colori più accesi, quelli che vedete in basso e quindi mi richiamano il dinamismo, mi richiamano la capacità di comunicare, oppure anche colori più pastello. Allora lì li sceglierò nel momento in cui voglio apparire più dolce, voglio apparire più giovanile. E infine gli accessori. Le linee degli accessori non sono così scontate come potrebbe apparire, perché gli accessori che sono in alto, quindi punte molto spigolose, punte squadrate, sia nel femminile che nel maschile, mi parlano di dinamismo, mi parlano di serietà, di rigore. Linee invece molto più morbide, più arrotondate, mi parlano più di dolcezza, più di predisposizione alla comunicazione. E lo stesso vale anche per i tessuti. Un tessuto come la lana è diverso se indosso un tessuto come il cashmere. Il cashmere parla di lusso, la lana mi parla più di calore e quindi lo associo di nuovo anche questo più alla parte comunicativa. Un principe di Galles mi parla più di eleganza, mi parla più di anche questo di rigore, di un certo senso anche un po' anche proprio di un'eleganza sempre verde. Il jeans di Contro invece mi parla di un'immagine molto giovanile, ma il tutto mi cambia nel momento in cui ad esempio il tweed mi diventa un tessuto di tendenza. Allora a quel punto la mia lettura deve essere ricontestualizzata a tutto l'outfit, perché a quel punto devo capire cos'altro c'è nell'outfit che questo tweed me lo riattualizza oppure invece me lo fa rimanere un qualcosa legato più a questo rigore, a questa immagine più classica. vi lascio con questa frase che è appunto il cuore del mio lavoro e vi lascio anche con una buona notizia. I sociologi dicono che noi abbiamo un'opportunità che in passato non avevano, abbiamo la possibilità di scegliere se seguire o meno la moda. Ricordatevi che moda è sempre nel senso di abbigliamento, accessori, abiti, non di tendenze. Ecco, quello che io vi dico è prendetevi questa opportunità. Siate voi a decidere che cosa volete comunicare e come lo volete comunicare con la vostra immagine, perché così potrete mandare un messaggio coerente che a livello di percezione sicuramente arriva immediatamente al vostro interlocutore. Grazie.